Una donna che lavora nel mondo dell'eros, quindi il mondo del porno, pensate che avrebbe scelto di utilizzare, barra di sfruttare il nome Gigi Dior, di chiamarsi Gigi Dior, come nome d'arte per quanto riguarda le sue performance, per quanto riguarda quello che va a compiere a livello intimo, barra sessuale. E così la nota a casa di moda francese, chiamata Christian Dior Couture, avrebbe fatto causa a questa pornostar, perché la donna avrebbe scelto questo nome d'arte che, secondo l'azienda stessa, starebbe andando a danneggiare il nome di costelli di questa azienda e relativi affari che probabilmente non vanno così bene. La donna ha girato qualche pellicola, tra cui Hot Milfs, che significa Calde Milf, utilizzando, barra sfruttando questo nome d'arte, e è diventato virale nel web, cioè questo nome d'arte ha avuto un eco mediatico davvero pazzesco. Eppure però la casa in questione, ripeto che, ha fatto sapere che non accetta di buon grado questa scelta nell'utilizzo del suo nome, e avrebbe fatto causa alla donna in questione. Dal narrato italiano di Youtube Italia è tutto, ciao a tutti.